Gentili telespettatori di Antenna Sud, amiche ed amici di Antenna Pomeriggio, ben ritrovati, siamo pronti per dare il via a questa puntata di mercoledì 7 marzo, ricca di appuntamenti, ricca di ospiti con cui potremo dialogare insieme attraverso il telefono e anche la rete, vi ricorderò come farlo tra pochissimo, ma vi parleremo anche di notizie importanti, a cominciare da quelle che riguardano l'aggiornamento sulla situazione dei due marò italiani detenuti in India, scende in campo l'Unione Europea perché finalmente c'è stata richiesta di aiuto da parte dell'Italia, cosa di cui tra l'altro avevamo parlato proprio ieri. Per quel che concerne invece la cronaca di casa nostra, purtroppo dovremo parlare di un grave fatto avvenuto nel Foggiano, a Torre Maggiore, è crollata una palazzina, due i morti registrati. E continueremo anche a parlare di cronaca giudiziaria con l'aggiornamento sulla questione che riguarda la Procura di Bari. Il grave disagio ambientale, il procuratore Antonio Laudati chiede la dirattizzazione, proprio questa mattina l'assessore all'ambiente del Comune di Bari, Maria Maugeri ha risposto in qualche modo proprio durante Antenna Mattina il nostro approfondimento in diretta, vi rilanceremo le sue dichiarazioni. Ma la notizia da cui vogliamo cominciare oggi non si è guadagnata a titoli di apertura e approfondimenti sulla stampa nazionale e locale, ma tra 24 ore, vedrete, caratterizzerà una giornata di attenzione verso l'universo femminile, l'8 marzo, giornata dedicata alla donna, spesso offerta ad una ingiusta retorica che dovrebbe insegnarci invece a non fermarci mai negli altri 364 giorni dell'anno per affermare che la questione femminile non è un affare di donne, non è un affare occasionale, non è un affare da gestire sull'onda del ricordo, è una questione di diritti, meglio ancora di diritti umani. Per questo la preghiera, innanzitutto alle donne, è quella di fuggire dai festeggiamenti strumentali e dalle occasioni per ritrovarsi e parlarsi addosso un solo giorno all'anno domani e lavorare costantemente invece per l'affermazione di riconoscimenti finora strappati alla quotidianità o ingiustamente taciuti. Le donne ancora oggi sono private dei diritti di base, pensiamo alle casalinghe per esempio, ma anche le lavoratrici di successo che occupano posti dirigenziali sono vittime, sottopagate e senza prospettive di carriera secondo l'Unione Europea. Ancora la società non riesce a comprendere che promuovendo le donne si promuove l'economia, che i maschi devono cambiare la mentalità, anche se bisogna comunque ammettere che troppo spesso il problema è dettato proprio dalle stesse donne che non si convincono che molto peso ha l'educazione dei propri figli a cui bisogna inculcare un senso più forte di uguaglianza, la coscienza di poter esprimere sempre la propria opinione e avere innanzitutto rispetto verso l'altro. Gli uomini, un certo tipo di uomini purtroppo, continuano ancora ad avere paura delle donne. Questo tipo di uomini è spaventato dalla loro ascesa e fa di tutto per controllarne i diritti fondamentali e non va bene. Questo è un grave problema ma per combatterlo non si deve pensare di innescare una guerra tra sessi. La partita da giocarsi invece è in ambito politico, culturale ma soprattutto di confronto. Alle donne è affidato ancora una volta un compito arduo per un lavoro di rete, di persuasione, di incontro con l'altro sesso ma mai di autocelebrazione e autodenuncia. Bisogna andare oltre e magari prendere esempio dalle splendide cinquantenni del 2012 che le statistiche ci insegnano a essere vincenti, cinquantenni che con i figli sistemati hanno tanta voglia di ricominciare e noi non possiamo che pensare a loro per poter immaginare un presente ed un futuro diverso. Andiamo subito con le notizie di oggi che arrivano dall'Italia e dal mondo e quindi diamo la linea al CNR. E eccoci in studio, siamo pronti per cominciare l'appuntamento di oggi che come sempre non può prescindere da un elemento essenziale, la vostra partecipazione da casa attraverso le due modalità solite e cioè il telefono, il numero verde gratuito 800 098 729, chiamate, aspettiamo le vostre telefonate, i vostri commenti, le vostre sollecitazioni. L'altro elemento di congiunzione tra noi e voi è quello che devo dire va sempre per la maggiore ed è quello affidato alla rete, alla pagina Facebook di Antenna Sud, intanto scorrono i tweet che abbiamo rilanciato nel corso della mattinata e della giornata che insomma hanno un po' le notizie presenti sul nostro sito. Invece tornando a Facebook, pagina già attiva perché è già collegato con voi, il nostro Carmelo Palumbo. Buon pomeriggio Carmelo, versione college. Buon pomeriggio, sì, sì, molto London, molto londinese. Allora, buon pomeriggio a tutti. Naturalmente, come diceva Anna Maria, i nostri web spettatori sono già in fermento e sono sempre molto presenti in questo tipo di appuntamenti che sono legati al nostro approfondimento. Allora, noi abbiamo lanciato alcuni argomenti che... Poi ti dico i miei, fammi sentire i tuoi. Sì, allora, per quanto riguarda... Guarda, ce n'è una che non è proprio il massimo per cominciare perché ci chiama all'impegno un po' tutti, eh. perché per Visco, governatore della Banca d'Italia, pare che sia necessario in questo momento contingente lavorare di più, in più e più a lungo. Quindi, insomma, io che accarezzavo già l'idea di ritirarmi, non mi posso ritirare. Allora, guarda, ci siamo intesi con il pensiero perché questo era proprio un argomento che volevo sollecitarti, uno dei due. Quindi su questo siamo uno a uno. Va bene. Poi hai toccato ovviamente il tema della figura della donna, visto che siamo alla vigilia di questa festa, che poi festa, insomma, non dovrebbe essere tanto perché forse è il caso di non festeggiarla più. Assolutamente. Non so se sei d'accordo. Io sono impegnata tutto l'anno. Ad evitare che si faccia. No, ad evitare che si faccia. Io sono comunque per la libertà di espressione, di professione, ci mancherebbe. Io sono impegnata tutto l'anno a raccontare quali sono le tematiche giuste di confronto perché una società civile valorizzi l'universo femminile. È un 8 marzo permanente il tuo. Ma sì, per me sì. Allora, io ho chiesto ai nostri internauti se fosse il caso di superare questi festeggiamenti un po' stucchevoli, questi stereotipi che abbiamo definito da vecchia cultura. Poi ci sono delle curiosità. Abbiamo chiesto, insomma, che cosa possano pensare i nostri telespettatori a proposito di una procura che pare essere infestata dai ratti. A questo punto urge un provvedimento. È un disastro più che una curiosità per i poveri. Un provvedimento lavoratori. No, la notizia è curiosa in sé per la sede, però, insomma, è un mezzo disastro effettivamente. Insomma, servirebbe un provvedimento restrittivo anche per i topi. Anche per i topi, senz'altro sì. Per i Maron Pugliesi si muove anche lui. Eh, 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 bravo. Sì, sì, dai. Per i Maron Pugliesi finalmente si muove anche lui, perché il governatore, il governatore, il presidente del Consiglio, Monti, aveva chiesto se aveva già espresso alcune sue considerazioni con l'alto commissario, l'alto rappresentante per la politica estera a lui, Katrin Ashton, che, insomma, fino a quel momento non aveva tanto dato modo di essere interessata. Se non ha ricevuto la richiesta. E infatti, perché lei finora ha detto che, insomma, non ci siamo mossi molto in direzione UE, però finalmente lui adesso entra in campo e il peso immagino che sia un po' diverso rispetto a quello nostro. Assolutamente sì. Proprio a proposito di questo e proprio ripensando a come si è evoluta tutta la vicenda dei due Maroi italiani, ieri, salutando i nostri telespettatori, ci siamo scambiati, insomma, un po' di opinioni e soprattutto poi è venuta fuori una considerazione che in questo nostro paese la filosofia del vivi e lascia vivere e poi quando esplode il problema interveniamo è a tutt'oggi purtroppo una realtà e di fatto una realtà penalizzante. E ci siamo ripromessi di ritrovarci oggi partendo proprio da quest'ultimo punto. E quindi io comincerei anche a sollecitare i nostri amici su questo argomento. Insomma, loro sposano questa filosofia o pensano che è arrivato il momento di cambiare un po' le regole, anche di vita in questa nostra Italia, dove è vero sì che il sole ci rende positivi, dove siamo allegri e qualcuno ci aiuta, ma è un po' di rigore e va prima o poi assunto nella quotidianità, soprattutto poi quando si tratta di situazioni così complicate come quella che sta interessando l'Italia e poi principalmente la sorte dei due marò pugliesi, tra l'altro, prima di tutto italiani. Andiamo in pubblicità, noi ci ritroviamo fra tre minuti perché continueremo con le notizie, con gli ospiti, affronteremo per cominciare un problema importantissimo, un'emergenza importante che è l'emergenza carceri, ma soprattutto focalizzando la necessità di un nuovo carcere a Bari, insomma di una ristrutturazione, di una dignità da assicurare a tutti coloro che vivono all'interno del carcere di Bari. Lo faremo con un ospite, ci vediamo fra tre minuti. Allora eccoci in studio, pronti per affrontare un argomento che di fatto è un'emergenza nelle nostre città, particolarmente in Puglia perché il sovraffollamento nelle carceri è un dato oggettivo e pensare all'ipotesi della costruzione di un nuovo carcere nella città di Bari per esempio e dell'ampliamento di reparti già finanziati in città come Trani, Lecce, Taranto è senz'altro un elemento positivo, per questo abbiamo voluto invitare nel nostro studio il segretario nazionale del SAP Federico Pilagatti che ringrazio per aver accettato l'invito innanzitutto e può chiarirci un po' le idee, nel senso che i dati sono assolutamente eloquenti, grande sovraffollamento, dignità offesa, dignità umana offesa e quindi necessità di un intervento e a questo punto anche tempestivo. Allora l'idea di un nuovo carcere che in qualche modo potrebbe rappresentare una risposta, che tipo di ostacoli sta incontrando? Se sta incontrando ostacoli? Guardi, ostacoli nel vero senso della parola no, però chiaramente per far sì che questo progetto decolli ci vuole l'assenso delle autorità istituzionali e regionali. Nelle scorse settimane c'è stato un incontro prima con il sindaco di Bari che si è detto disponibile e con il presidente Vendola. Purtroppo il presidente Vendola non ha preso ancora una decisione e questo è chiaramente una questione che a noi dispiace perché noi riteniamo in questo momento particolare la costruzione di un nuovo carcere a Bari sia strategico, sia strategico perché il sovraffollamento delle carceri in Puglia è uno dei più grossi a livello nazionale, abbiamo più di 2 mila detenuti, poter costruire un nuovo carcere a Bari, tolto il fatto economico che porterebbe circa 45 milioni di euro, quindi ci sarebbe del lavoro sul territorio, potrebbe dare un po' di ossigeno a tutte le strutture pugliesi che in questo momento stanno soffrendo. Tenga presente che dovrebbe ospitare circa 7-800 detenuti, se a ciò come giustamente ha detto lei il finanziamento di altre tre sezioni detentive negli istituti di Trani, Taranto e Lecce potremmo arrivare a 1.500-1.600 detenuti. Come dicevo prima, poiché la capienza sta e sono 2.300 posti, ci sono più di 2.000 detenuti, potremmo risolvere il problema delle carceri nella nostra regione e nel contempo dare una dignità a chi effettivamente sta in carcere e si vede giornalmente e vive una situazione igienico-sanitaria drammatica e vive una situazione molto preoccupante e anche ai lavoratori della polizia penitenziaria, perché chiaramente lavorando con queste situazioni hanno grossissimi problemi anche a rispettare quelle che sono le minime situazioni igienico-sanitarie presenti negli istituti. Certamente sì. Intanto, tornando all'elemento economico che non è poi assolutamente secondario, c'è da dire che ogni tipo di risposta e di presa di posizione va assunta subito, perché si corre anche un grave rischio, quindi vorrei sapere da lei se effettivamente è così, e cioè che i fondi addirittura possano essere dirottati al nord. Pare che anche la stessa Lombardia di Formigoni, insomma oggi in prima pagina per questioni certamente non proprio diciamo da prima pagina in senso positivo, si sarebbe in qualche modo già offerta di poterla gestire e quindi di creare nuove carceri. Guardi, la notizia che noi abbiamo è che a oggi ci sono 45 milioni di euro circa pronti per potersi respesi per un nuovo carcere a Bari. Sicuramente se non ci saranno al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria delle risposte che siano risposte rapide, sicuramente questi soldi verranno spostati altrove. Ribadisco che perdere un carcere in questo momento a Bari sarebbe una cosa molto drammatica, ritorna sia per quanto riguarda i detenuti e anche per quanto riguarda l'intero sistema penitenziario pugliese, perché chiaramente avendo a disposizione 700-800 posti potremmo tranquillamente togliere detenuti anche da istituti come Foggia che ha 750 detenuti con 370 posti, da Lecce 1.350 detenuti con 650 posti, da Taranto 320 posti 680 detenuti. Potete immaginare in che condizioni, noi lo denunciamo spesso questa situazione, sarebbe veramente un peccato. Beh, allora a questo punto non ci resta che aspettare questo intervento strategico e risolutivo a questo punto del governatore di Puglia. Anche la costruzione di un carcere oggettivamente non è elemento di demerito nella carriera politica di un politico. Anzi, in una situazione come quella che viviamo, di sicuro ha un elemento in più, quello di aver restituito la dignità a persone, a esseri umani che sicuramente non meritano questo come pena. È giusto? Guardi, il Presidente Vendola, noi lo riusciamo da parecchio tempo perché ha sempre avuto un occhio particolare per quanto riguarda la situazione dei detenuti e penitenziaria. Per questo ci aspettiamo che un suo intervento affinché la situazione si possa risolvere, poiché, ritorno a dire, ci sono tante altre regioni che hanno fatto già richiesta per avere questi fondi e riteniamo che sia veramente un peccato, lo ripetiamo per l'ennesima volta, peccato perdere questo finanziamento. Ne siamo sicuri anche noi e quindi so bene che ci ritroveremo a parlare di come questo progetto dovrà andare avanti. Grazie per essere stato con noi e noi a questo punto andiamo con le notizie, quindi sigla. Cominciamo dalla vicenda dei due marò pugliesi al limite della crisi diplomatica tra Italia e India è legata anche a dei fattori che esulano dal campo di azione e delle rispettive diplomazie. La strategia migliore al momento sembra essere quella dell'attesa, anche se avete sentito quali sono le ultime notizie e parlano di un intervento effettivo dell'Unione Europea dopo richiesta dell'Italia. Vediamo il servizio. L'Italia non è l'America o la Russia e nemmeno la Francia, l'Inghilterra o la Germania. Questo va detto subito per capire e soprattutto per cercare di sbrogliare l'intricata matassa giudiziario-politico-diplomatica provocata dalla morte dei due pescatori indiani attribuita dalle autorità indiane e i due marò pugliesi, il baresse Salvatore Girone ed il tarantino Massimiliano Latorre. Sulla scena internazionale non abbiamo il peso militare e politico delle nazioni succitate e quindi siamo esposti ad una serie di fattori destabilizzanti per la positiva risoluzione della crisi ormai esistente tra Italia e India. Uno di questi le elezioni in India che hanno visto soccombere Raul Gandhi, figlio dell'italiana Sonia Gandhi, per l'inevitabile sentimento anti-italiano degli indiani. E proprio ulteriori elezioni, previste tra pochi giorni nella regione del Kerala, quella dove è avvenuto l'incidente, indurrebbero le autorità del luogo a non mostrarsi deboli contro gli occidentali. Potrebbe a questo punto rivelarsi più strategico lasciar passare questo turno elettorale. La speranza è riposta anche nel nostro governo, finora dimostratosi pratico ed efficace sul fronte interno e certamente molto più credibile in Europa. Mario Monti ne ha già parlato con Catherine Ashton, l'alto rappresentante della politica estera dell'UE. Intanto la diplomazia italiana ha ottenuto per i militari italiani un carcere non comune ed un regime di detenzione differenziato rispetto agli altri detenuti. I due ragazzi, di cui va sottolineata la grande dignità mostrata in ogni occasione, in un incontro con i giornalisti hanno fatto sapere di stare bene. Contemporaneamente in Italia la Farnesina e i parenti di Due Marò, la moglie del padre del barese Girone accompagnati dal sindaco di Bari Emiliano a Roma, sono stati ricevuti dal ministro Terzi rassicurati sulla massima attenzione riservata dalle istituzioni alla vicenda. Per l'eventuale soluzione della crisi bisognerà aspettare non solo le evoluzioni politiche locali, ma anche gli esiti di una perizia sulla dinamica dei colpi esplosi. A questo proposito, delle foto mostrano come i proiettili siano passati rasanti alla superficie dell'imbarcazione dei pescatori e questo basterebbe, considerata l'enorme altezza della petroliera da dove avrebbero sparato i due italiani, a scagionare i Marò. Infine c'è l'auspicio che, passata l'onda emotiva dell'evento, finisca per prevalere il diritto internazionale. Una nave in acqua internazionali resta territorio nazionale, e stabilito questo non vi è dubbio che la giurisdizione sia della magistratura italiana. Una palazzina di due piani è crollata nella notte a Torre Maggiore nel Foggiano, probabilmente a causa dello scoppio di una stufa a gas. Due le vittime, i soccorritori e i volontari hanno lavorato per tutta la notte recuperando un corpo, mentre l'altro è stato estratto in mattinata. Il servizio. Quasi certamente lo scoppio di una bombola del gas a la base di una violenta esplosione avvenuta ieri, poco prima della mezzanotte a Torre Maggiore nel Foggiano. Una palazzina di due piani è crollata alle spalle del castello ducale e della villa comunale. Pesante bilancio, sono morti due anziani. Maria Orlando, di 74 anni, e Luigi Lamedica, di 61. Forse proprio dall'appartamento di Lamedica si è sprigionata la fuga di gas che ha provocato l'esplosione causata forse dal malfunzionamento di una stufa. Soccorritori e volontari fino a questa mattina hanno scavato fra le macerie a mani nude alla ricerca degli inquilini della palazzina. I vigili del fuoco hanno fatto sgomberare le abitazioni a Tigue e a quella crollata. Altre due persone sono state invece tratte in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Foggia e San Severo con quattro squadre. È stato necessario sgomberare altre famiglie mentre per alcune ore si è scavato con la speranza di poter trovare vivi i due e anziani. Intanto sono in corso indagini e accertamenti da parte dei tecnici dei vigili del fuoco per accertare le cause del crollo, mentre la zona limitrofa è stata transennata. Dopo anni di attesa la British Gas decide di abbandonare il progetto del regasificatore di Brindisi. Parti politiche e sociali da tempo si sono schierate comunque contro questo impianto di grande impatto ambientale. Per gli ambientalisti quella della British potrebbe essere una manovra per fare pressione sul governo. C'è anche da dire che proprio sui quotidiani di oggi grande risalto è stato dato, è stata data l'iniziativa soprattutto pensando alla questione inerente ai posti di lavoro che la burocrazia dovrà in qualche modo far rinunciare. Vediamo comunque il servizio. La British Gas decide di abbandonare il progetto del regasificatore di Brindisi, lo dice l'amministratore delegato della società britannica Luca Manzella in un'intervista rilasciata al sole 24 ore. L'azienda inglese si dice delusa e scoraggiata dall'infinito braccio di ferro con le autorità italiane. È stato annunciato l'avvio delle procedure di mobilità per circa 20 lavoratori impiegati nella sede Brindisina della British Gas Italia. Chiudere la sede locale non significa rinunciare al progetto, ha precisato la portavoce della multinazionale. Concentreremo tutte le attività nella sede di Milano in attesa delle autorizzazioni all'impianto che aspettiamo ormai da 11 anni dopo aver investito oltre 250 milioni di euro in un clima di ostilità da parte delle amministrazioni locali. Il presidente della regione Puglia, Vendola, però non ci sta in replica. Se la British Gas ha avuto problemi con l'insediamento dell'impianto di rigassificazione del porto di Brindisi, questi non sono dipesi certamente dalla lentezza della macchina burocratica, bensì dalla pretesa della British di eludere le procedure di valutazione ambientale e di imporre per il suo rigassificatore un luogo da sempre e da tutti giudicato in idoneo. Il futuro dell'impianto e dei 20 lavoratori impiegati nell'amministrazione della sede locale della società è legato alle decisioni che arriveranno da un doppio fronte, quello giudiziario innanzitutto. Si terrà il 16 marzo l'ultima udienza del processo che vede sul banco degli imputati dirigenti della società inglese accusati di aver versato una serie di mazzetti all'ex sindaco di Brindisi Giovanni Antonino in cambio delle autorizzazioni che diedero il via al cantiere sulla costa del capoluogo messapico in località Capobianco. Nel frattempo si attende anche l'esito delle procedure amministrative. L'ok al rigassificatore è infatti sospeso all'esito della conferenza decisoria presso il Ministero dello Sviluppo Economico non ancora convocata. Una nuova autorizzazione integrata ambientale ben più rigolosa per l'ILVA ci sarà, lo ha annunciato il Ministro per l'Ambiente Clini che incontrerà il 14 marzo il Governatore Vendola e il Sindaco di Taranto Stefano. Esulta legambiente troppo poco rigida l'aia precedente sulla questione intanto si profila un'intesa regionale bipartisan. Il Ministro dell'Ambiente Corrado Clini, il Governatore della Puglia, Nichi Vendola ed il Sindaco di Taranto Ipazio Stefano si incontreranno il 14 marzo per la riapertura della procedura di autorizzazione integrata ambientale per l'ILVA di Taranto. Vendola ha apprezzato la tempestività e la sensibilità istituzionale con la quale il Ministro ha risposto alla lettera del Presidente della Regione. Esulta anche legambiente che con il Vicepresidente Stefano Ciafani dichiara «Quella di Clini è un'ottima decisione, l'avevamo sollecitata dopo le perizie tecniche sulle emissioni e sui rischi per la salute. La precedente aia è inadeguata per uno degli impianti siderurgici più grandi d'Europa e va resa più rigorosa». Dello stesso avviso Francesco Tarantini, Presidente di Lega Ambiente Puglia, è lunetta Franco, Presidente del Circolo di Taranto. Sull'ILVA è intervenuto anche l'ex Ministro Fitto che accetta di buon grado di elevare l'attenzione sulla questione, a patto però dice che si evitino strumentalizzazioni da campagna elettorale. Pare infatti che stia già andando oltre le schermaglie politiche per trovare un'intesa bipartisan regionale che sostenga la richiesta al Governo centrale di accollarsi le ingenti spese di bonifica e magari anche i risarcimenti per chi ha contratto malattie da inquinamento. A quel punto sarebbe molto più agevole per lo stabilimento accettare ogni forma di adeguamento alle rigide norme ambientali. L'inquinamento dello stabilimento siderurgico di Taranto diventa anche oggetto di polemiche politiche. È singolare che Vendola e il Sindaco Stefano solo ora si accorgano che l'ILVA inquina con le sue polveri nocive alla salute dei lavoratori e dei cittadini, lo afferma la senatrice Adriana Poli Bortone, cofondatrice di Grande Sud. Ricordiamo a Vendola, aggiunge la Poli, che l'ILVA, oltre all'ambiente, inquina il lavoro e se durante la prossima occupazione del ponte da parte dei lavoratori licenziati dell'ILVA, Vendola e Stefano saranno così cortesi da fare capolino, sarà gradita anche la loro presenza. Cambiamo argomento, una persona è morte, un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto stamani sulla statale 95 Tito Brienza nei pressi dello svincolo di Tito nel Potentino. Due veicoli coinvolti. A causa dell'incidente la statale è spiegato in una nota dell'ANAS, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute una squadra di pronto intervento ANAS, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che stanno accertando la dinamica dell'incidente. Ne abbiamo parlato poco fa con il nostro Carmelo Palumbo. Topi nei corridoi del Palazzo di Giustizia a Bari, ma il procuratore capo Laudati chiama in causa il Comune. L'INAIL, intanto oggi a Roma si potrebbe sbloccare la situazione per l'utilizzo dell'ex ospedale Bonomo come sede degli uffici giudiziari. Non solo pioggia negli uffici giudiziari, impianti di riscaldamento e fognari non funzionanti, ma anche topi. Situazioni ormai intollerabili ed è per questo che un intervento urgente è stato chiesto ufficialmente dal capo della Procura di Bari, Antonio Laudati, per risolvere il problema della presenza dei topi fra i corridoi del Palazzo di Via Nazariant. Il procuratore ha inviato due lettere, una al Comune di Bari, l'altra all'INAIL, proprietario dell'edificio di Via Nazariant, per avvisargli e chiedere un'operazione di deratizzazione e pulizia. Un problema contenuto anche nel fascicolo di inchiesta coordinato dal PM Renato Nitti, che da alcuni anni indaga per violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il magistrato ha disposto nuovi accertamenti e verifiche. Dal canto suo, l'assessora comunale all'ambiente, Maria Maugeri, ha garantito che l'amministrazione farà la sua parte per la deratizzazione, anche se poi chiederà il risarcimento delle spese direttamente all'INAIL, proprietaria dell'immobile. Noi provvederemo, in questo caso, probabilmente a farlo direttamente, punto e basta, e poi i danni saranno chiesti al proprietario. Ma anche questa è una cosa che si poteva fare prima, cioè il meccanismo legale, se il proprietario non provvede in maniera autonoma, è quello di fare il lavoro e poi di chiedere il risarcimento al proprietario. Intanto oggi da Roma potrebbero giungere notizie importanti per definire le sorti dell'ex ospedale militare Bonomo di Bari, che secondo il sindaco di Bari, Michele Emiliano, potrebbe ospitare gli uffici della giustizia penale. Nonostante lo sblocco di 5 milioni e mezzo di euro, il livello dello scontro fra sindacato e il commissario Carlo Fuortes resta alto. Il Petruzzelli continua a essere occupato e per sabato è prevista una grande manifestazione. Beppe Stallone. Il clima resta rovente all'interno e all'esterno del Teatro Petruzzelli di Bari. La cifra sbloccata dal Ministero, 5 milioni e mezzo di euro, consistente anticipazione del finanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo, non restituisce serenità ai lavoratori del Petruzzelli, coro e orchestrali in particolare. Il teatro resta occupato e di fronte a una costante e sistematica a violazione dei diritti dei lavoratori, così la definisce la CGL, il sindacato tiene alto il livello dello scontro. Nonostante i 5 milioni e mezzo di euro, la denuncia per comportamento antisindacale resta? 5 milioni e mezzo di euro sono una parte delle risorse che ogni anno sono state attribuite alla Fondazione, niente di più, niente di meno. Questo non c'entra nulla rispetto alla nostra richiesta di un incontro, che era una richiesta che era perfettamente in linea ed è perfettamente in linea con le norme contrattuali, che sono state dal nostro punto di vista violate, per questo abbiamo pensato di rivendicare il nostro diritto al confronto, al riconoscimento del nostro ruolo, attraverso una denuncia per comportamento antisindacale del commissario. Ma l'incontro ci sarà il 14? I tempi sono troppo lunghi, il contratto prevede 48 ore, il 14 dopo aver fatto tutte le assunzioni senza un criterio condiviso, senza una discussione di merito, il 14 è un incontro vano. In un secondo momento voi temete il concorso pubblico per le assunzioni? Noi abbiamo chiesto il concorso pubblico per le assunzioni, l'abbiamo chiesto dal 2010 al Ministero. Ebbene che su questa vicenda si faccia un attimo di chiarezza. La CGL ha sollecitato la Fondazione a chiedere l'autorizzazione per esperire il concorso pubblico al Ministero. Il Ministero dal 2010 non risponde. Il concorso pubblico deve servire a coprire la pianta organica definita dal Ministero stesso. Non è una nostra volontà quella di tenere tanti lavoratori precari in quelle condizioni. Fra i lavoratori adesso chi rischia di più? Sicuramente il coro all'orchestra. E intanto per sabato grande manifestazione dinanzi al Petruzzelli con la partecipazione del segretario confederale della CGL Enrico Panini e il segretario nazionale della SLC CGL Emilio Miceli. Un esperimento di legalità che dopo otto mesi rischia di naufragare. Stiamo parlando della masseria di Altamura sottratta alla mafia ma che è a rischio chiusura per deficit. L'antica masseria dell'Altamura, sala ricevimenti di Altamura confiscata, la criminalità organizzata rischia la chiusura. Un esperimento di legalità voluto dallo Stato. Un ristorante da 8.000 metri quadrati restituito alla collettività attraverso un'attività di ristorazione a prezzi vantaggiosi e soprattutto sotto la guida dello chef internazionale Gianfranco Vissani. A distanza di soli otto mesi dalla restituzione quella struttura rischia di chiudere per bilancio in rosso. La Virgilio Project, società anch'essa confiscata alla mafia utilizzata per la gestione di parte delle strutture sequestrate, ha annunciato informalmente ai dipendenti che presto chiuderà i battenti e restituirà i beni allo Stato. Da Roma preannunciano però che stanno valutando la possibilità di riassegnare il bene alla Regione Puglia. L'obiettivo è non chiudere la struttura, prevedere di rimodulare il contratto a Gianfranco Vissani che però è fiducioso. Infatti, secondo lo chef, malgrado quasi 600.000 euro di buco in bilancio, ci sono notevoli incassi e come se non bastasse ci sono decine di prenotazioni. Anche le società coinvolte nel calcio scommesse lo ipotizzano gli investigatori dopo alcuni elementi emersi negli ultimi interrogatori e dopo il confronto dei tabulati telefonici alla vigilia delle partite sospette. Il servizio. L'indagine della Procura di Bari sul calcio scommesse si allarga ad un possibile coinvolgimento delle società. Nel giro delle partite truccate e delle scommesse, ipotizzano gli investigatori, potrebbero aver avuto un ruolo anche i dirigenti di alcune squadre e non solo i giocatori, come era emerso fino a questo momento. La conferma che la Procura stia approfondendo il ruolo delle società nelle presunte combine arriva dal contenuto degli ultimi interrogatori. Gli investigatori avrebbero chiesto da alcuni indagati, in particolare a quelli vicini da Andrea Masello, ex difensore del Bari ora in forza all'Atalanta, se fossero mai entrati in contatto con i dirigenti di alcune squadre, senza specificare quali e senza aver ottenuto finora risposte affermative. Alla base degli accertamenti della magistratura barese ci sono anche i contatti telefonici ricostruiti attraverso i tabulati, particolarmente intensi alla vigilia delle partite sospette. Gli interrogatori continueranno nei prossimi giorni. È stato convocato uno dei tre ristoratori baresi indagati con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva in concorso con altri. Si tratta di Onofrio De Benedictis, titolare del ristorante Il Pescatore, frequentato da alcuni calciatori del Bari. Sul calcio scommesso si è espresso anche il presidente del CONI, Gianni Petrucci, a margine del convegno indetto dalla Fedesport, sul tema il presente e il futuro dello sport italiano. L'amnistia ha detto che non ci può essere. Quando c'è una macchia così ampia bisogna punire i colpevoli. Questo dunque il parere di Petrucci sull'ipotesi di amnistia per i tesserati coinvolti nell'inchiesta sul calcio scommesse. Lo scandalo è una macchia che deve essere allontanata dal mondo del calcio nel più breve tempo possibile. Sono molto contento invece, ha continuato Petrucci, per come la magistratura e le forze di polizia stanno lavorando. Mi aspetto delle condanne secondo la legge e le regole attuali. Prima di passare ad un altro servizio, volevo chiedere proprio a te, insomma anche cogliendo l'occasione della tua presenza, che tipo di ripercussioni sta avendo questo scandalo nel mondo calcistico, ma anche nella cittadinanza, tra gli sportivi. Nell'immaginario collettivo il calcio sta perdendo di peso? Sì, Anna Maria, questo è il primo effetto. Il primo effetto da quando si sono conosciute le prime voci su questa inchiesta. Il primo effetto è quello dello scoramento generale, perché si perde fiducia, si perde anche quella parte emozionale del calcio e quel sentimento che ogni tifoso ripone quando si parla di calcio. Poi adesso l'inchiesta sta prendendo, è come se si stesse ampliando e stesse diversificando i suoi obiettivi. Non parliamo più di singoli calciatori coinvolti, ma adesso si comincia a parlare di società. Ma io mi chiedo a questo punto, in che senso vengono coinvolte le società? Cosa vuol dire? Perché se si parla di Cesena, si parla di Sampdoria, poi si parla anche, si vocifera di Lecce e Bari, ma onestamente è più di un annetto, più di qualche annetto che sono in questo ambiente, parliamo anche di 4-5 lustri. Io faccio fatica ad immaginare la famiglia Matarrese, la famiglia Semeraro, o eventuali dirigenti collegati, o semplici factotum in qualche modo collegati a queste società storiche. Assolutamente prendere in considerazione, faccio fatica, ripeto, ad immaginare una situazione del genere, perché non vedo proprio come è possibile, non vedo come sia possibile, però ecco, coinvolgere le società che significa? Si è parlato di dichiarazioni che sono state prese in considerazione quando si sono esaminati gli interrogatori di questi personaggi, si è parlato di tabulati telefonici confrontati che denunciavano una frequenza sospetta di scambi di telefonate proprio alla vigilia di quelle partite che sono state poi coinvolte nella faccenda. Però, ripeto, finché mi si dice che un calciatore X possa aver ceduto la tentazione di scommettere, può succedere, ci sono calciatori che scommettono anche per il piacere di farlo, ci sono stati molto probabilmente calciatori che possono aver scommesso, però, insomma, parlare di società nel mucchio e parlare in generale senza spiegare a quale titolo vengono coinvolte queste società, io credo che sia assolutamente ingiusto. Quando ci saranno delle prove certe, allora parleremo di società coinvolte. E allora, noi cambiamo argomento, parliamo del grande successo dei vini pugliesi a Düsseldorf, alla Pro Wine, la più importante fiera del vino in Germania. Per l'assessore regionale Dario Stefano, raggiunti importantissimi obiettivi internazionali. Sentiamo quali. Il Pro Wine, la più importante fiera del vino in Germania tenutasi a Düsseldorf, ha confermato la netta crescita dei vini di Puglia, presenti con ben 46 aziende, di cui ben 34 all'interno dell'area destinata a Regione Puglia, Area Sviluppo Rurale e Union Camere Puglia. Affrontiamo il nuovo anno, ha commentato l'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, a Dario Stefano, con la soddisfazione dei tanti riconoscimenti ricevuti dalle nostre produzioni nel 2011 a livello nazionale ed internazionale, contribuendo all'affermazione del brand Puglia, simbolo di gusto e qualità nel mondo. Due le cifre più significative del nostro percorso, il più 16,2% delle esportazioni nei primi nove mesi del 2011 ed il superamento del 40% in vinificazione di qualità, DOC e IGT, ad un passo dal 50% prefissato per il 2015. Grazie ad un accordo fra le istituzioni regionali e la Vinum Europass Fine Magazine, i vini di Puglia sono nello spazio Vinum, della celebre rivista distribuita in Germania, Austria e Svizzera. Qui il Movimento Turismo del Vino di Puglia ha organizzato degustazioni e incontri mirati alla promozione del vino pugliese sui mercati del centro e nord Europa. Inoltre, Christian Eder, caporedattore della rivista Vinum per l'Italia, ha guidato tre wine testing con approfondimento sui territori vitivinicoli pugliesi dai temi particolarmente significativi. I grandi rossi di Puglia, tre aree, tre varietà, nero di Troia, negro amaro, primitivo, la Puglia vinificata in bianco. Provine ha anche presentato alla stampa tedesca il nuovo kit Vini di Puglia, contenente tutte le informazioni relative al panorama vitivinicolo regionale, le prime quattro DOCG, le nuove DOC, le recenti modifiche, i disciplinari di produzione e le mappe aggiornate. Subito dopo il provine, la Puglia sarà pronta a raggiungere il Vinitaly, in programma a Verona dal 25 al 28 marzo. Ed ora, prima della pausa, della consueta pausa per la pubblicità, un servizio appena realizzato dal nostro Mauro De Nigris, che ci parla di un'importante operazione e che ci racconta di come la droga ora viaggia dall'Italia all'Albania. Verificarlo è stata la guardia di finanza di Bari, che ha smantellato una organizzazione internazionale e che aveva una delle sue basi operative a Molfetta nel Barese. La droga questa volta finiva dall'Italia all'Albania. Cambiano le rotte e cambiano gli scenari del traffico internazionale di stupefacenti, anche se la Puglia rimane sempre a crocevia. A scoprire le nuove tendenze dell'attività illecita sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, che stamattina, in collaborazione con l'Interpol e le forze di polizia tedesche, albanesi, croate e inglesi, hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere e sono sulle tracce di tre latidanti. La cellula criminale smantellata aveva la centrale in un bar di Durazzo, da cui partivano gli ordini per le basi operative di Molfetta e di Rimini. Proprio nella città romagnola arrivava la cocaina dalla Germania, da cui i corrieri la distribuivano nel nord Italia, alla Spezia e a Trento, e nel sud, appunto, a Molfetta. La città pugliese, secondo quanto riferito dagli inquirenti, era strategica perché qui risiedeva l'albanese Andrea Ila, che faceva le veci del capo dell'organizzazione, un albanese di 48 anni. Sempre in Puglia il suo dalizio poteva contare sull'appoggio di un bitontino, Agostino Murgolo, che, secondo quanto accertato dai militari, all'interno del suo negozio vendeva anche merce contraffatta, sequestrata durante l'operazione. Nei due anni di indagini la Guardia di Finanza ha arrestato anche quattro corrieri e sequestrato circa 5 kg di droga. La collaborazione dell'Interpol e delle polizie straniere è stata necessaria perché uno dei componenti dell'organizzazione è stato bloccato ai confini fra Croazia e Montenegro, un secondo è ricercato in Inghilterra, altri due in Albania. Ed ora ci fermiamo per tre minuti, una pausa per la pubblicità, ci ritroviamo subito dopo per accogliere nuovi ospiti e soprattutto fare il punto relativamente ai vostri commenti che stanno arrivando attraverso la pagina Facebook di Antenna Sud. E allora non siamo in ritardo per parlare di un concetto importante che ovviamente ha avuto una vasta gamma di rappresentazioni, celebrazioni, ricordi, evidenze durante la giornata che era quella della giustizia sociale che si è celebrata il 20 febbraio. Ma un po' come accade e come accadrà domani, nel segno della discontinuità, ci piace portare avanti dei concetti anche quando non siamo obbligati, tra virgolette, a farlo. Allora il 20 febbraio si è celebrata in tutto il mondo la giornata della giustizia sociale e allora a distanza di qualche giorno noi torniamo sull'argomento per approfondirlo, per ricordarvi quanto è importante essere partecipativi rispetto all'argomento e soprattutto per raccontarvi dell'azione incisiva di ActionAid. E quindi abbiamo invitato nel nostro studio Nicoletta Riccardi, referente territoriale per Bari di ActionAid Italia, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E parlare di giustizia sociale è importante, importante sempre, non è importante solo una volta all'anno, ma può diventare, mi è caduta la pena, non fa nulla, ma può diventare anche una regola di vita, dovrebbe diventare una regola di vita, il concetto di inclusione, di scambio e di solidarietà è fondamentale. Sì, la giustizia sociale è un grande contenitore come concetto e si parla di perseguire giustizia sociale nel senso di lottare contro la disuguaglianza di diritti e opportunità. In occasione del mese della giustizia sociale, il febbraio, abbiamo promosso una campagna di raccolta fondi attraverso sms e la pubblicazione di un libro che si chiama Il diritto di cambiare, proprio perché il diritto di cambiare fa parte di quello che è il concetto di giustizia sociale. Allora il libro è questo, io lo mostro alla camera, è un libro che possiamo recuperare tutti, ovviamente nelle librerie, ma il metodo più semplice e immediato, lo consigliamo soprattutto ai nostri amici a casa perché hanno molta dimestichezza con la rete, è quello di rivolgersi direttamente alla fonte, alla casa editrice www.infinitoedizioni.it e prenotarsi. È un libro che ha anche una finalità benefica, come giusto che sia, vogliamo ricordarla? Sì, i fondi, i diritti d'autore di questo libro saranno destinati a un progetto in Etiopia, nel distretto di Ankober, destinato a un progetto al miglioramento della sicurezza alimentare e dell'agricoltura sostenibile, i cui beneficiari saranno donne, dato che le donne sono parte fondamentale di una economia. A questo proposito vorrei ricordare che in occasione della giornata internazionale della donna domani si è ribadito che il tema centrale della donna nel contesto rurale è fondamentale per lo sviluppo dei paesi più poveri come l'Etiopia. Assolutamente sì. Sicuramente la sfida è quella di far convogliare quanta più attenzione su questo tipo di problemi, ma anche sull'argomento solidarietà. È un argomento che agevola anche delle buone azioni, anche dei contatti umani importanti, come le adozioni a distanza. Action Aid è un'organizzazione internazionale indipendente che è presente in Italia dal 1989 grazie al sostegno a distanza ha finanziato in questi anni molti progetti di sviluppo in molti paesi. A sostegno dei bambini attraverso l'adozione a distanza e di tutte le comunità delle quali questi bambini fanno parte. Quindi il sostegno a distanza è importante vederlo non solo come un sostegno di un bambino, ma della comunità che ne beneficia in termini di sviluppo. Un ultimo elemento che vorrei ci raccontasse, in tutta questa organizzazione mondiale, ed è giusto che il mondo si incontri sulle cose buone e sulle buone pratiche soprattutto, Bari che ruolo ha? Grazie per la domanda perché è fondamentale. La Action Aid lavora a livello internazionale, ma quest'anno, nel 2012, ha inaugurato la strategia 2012-2017 che si chiama Italia Sveglia, proprio perché intende radicarsi sul territorio. L'idea di fondo è che si vogliono superare i divari nord-sud, paesi ricchi e paesi poveri, e in un contesto come il nostro, soprattutto nel meridione, in cui stanno sorgendo sempre maggiormente nuove povertà, le associazioni, le organizzazioni come Action Aid devono essere presenti sul territorio, relazionarsi con le comunità locali su temi come povertà, solidarietà e altro. Quindi Bari ha un ruolo strategico, è stata scelta come una delle città e dei punti di riferimento strategici. E allora credo che sia importante il nostro contributo. Noi stiamo vedendo le immagini di uno spot che tra l'altro abbiamo mandato in onda fino a poco tempo fa e che è giusto ricordare i nostri amici a casa e soprattutto, ripeto, la rete in questo ci aiuta molto. Quindi se volete sapere di più basta digitare Action Aid, insomma le coordinate sono utili, no? Quindi chi voglia partecipare, mettersi in discussione, attivarsi su Bari e Provincia può sicuramente visitare il sito www.actionaid.it o se vuole contattarmi scrivere un'email a bari-actionaid.org Perfetto, allora grazie, grazie per essere stata con noi. Allora Carmelo, intanto prima di accogliere la prossima ospite e facciamo un punto sulle tante sollecitazioni che abbiamo lanciato i nostri amici a casa. Cominciamo subito dall'argomento che è andato per la maggiore, cioè l'attenzione per la giornata della donna di domani. Allora, noi avevamo chiesto, cerchiamo, vogliamo superare questi stereotipi da vecchia cultura, vogliamo smetterla con questi festeggiamenti? Ebbene, Valentina risponde decisamente, poi Alessandro dice l'8 marzo nel suo significato è sempre valido, nel suo significato originario. I festeggiamenti odierni non ci azzeccano perché si tratta più che altro di una giornata e non di una festa della donna, perché va sempre detto, ricordiamolo sempre, in questa giornata si ricordano una rivolta finita nel sangue a Mosca e un massacro negli USA. Michelangelo dice, sì, direi che sarebbe il caso di uscire dal Medioevo ed entrare nel ventunesimo secolo. Agostino dice, troppa televisione ci ha portato, ci ha fatto perdere il nostro libero pensiero, non riusciamo ad immaginare una realtà al di fuori di quella televisiva. Quando la TV dice che dobbiamo festeggiare l'8 marzo, nessuno è più in grado di svincolarsi e siamo tutti succubi. Poi ci sono altri argomenti che abbiamo lanciato, per esempio quell'anatema di Visco, il governatore della Banca d'Italia, che ha detto che dobbiamo lavorare di più in più e più a lungo. Gianni dice, io lavorerei anche 24 ore al giorno, ma con una lauta ricompensa, e non solo per essere sempre più tassato e non avere niente in cambio. Il signor governatore parla da colui che ha la pancia piena. Insomma, ci vuole una certa commisurazione, ha perfettamente ragione il nostro amico a casa. Allora, in attesa che tu poi faccia il resoconto finale, noi voltiamo pagina, parliamo, però in qualche modo, sull'onda di quello che ci siamo appena detti, di argomenti che comunque vicini si intrecciano, perché poi non per volerlo sottolineare, c'è una sensibilità molto femminile, che quando si parla di solidarietà e di incontro verso gli altri, viene assolutamente fuori. Il senso della solidarietà, oltre che dell'arte, lo ritroveremo in uno spettacolo di cui parliamo questo pomeriggio con una gradita ospite, Maria Grazia Pani. Grazie per essere qui. Grazie a te. E salutiamo anche Elisabetta Pani, che ha avuto un contrattempo musicale, nel senso che gli hanno messo una prova all'ultimo momento. E allora, i contrattempi musicali e professionali oggigiorno ci piacciono, ma sono graditi. Parliamo di dolci suoni di donne. Io tenterò di far vedere questa locandina, ma penso vada bene. E' uno spettacolo che sull'onda della solidarietà può dire moltissimo. Ci dice come? Allora, Dolci suoni di donne è un concerto appunto dedicato alle donne, ispirato a figure femminili molto note del mondo dell'opera lirica, come partiamo dalla Desdemona che canta l'Ave Maria appunto e chiudiamo poi con Tosca e Butterfly, quindi due grandi eroine del sacrificio assoluto, passando però anche da donne invece molto più provocatrici come la Carmen, quindi la Banera e altre figure di donne invece poco angelicate rispetto alla Desdemona con cui siamo partiti. L'idea di questo concerto, questo è un concerto che nasce appunto perché io ed Elisabetta non facevamo qualcosa insieme da un po' più di un anno, quindi ci avevano chiesto dai tornate, fate una cosa insieme, quindi abbiamo deciso di tornare con questo concerto che infatti avevamo già eseguito a Trani e a Martina Franca. E poi è stato un caso perché io ho saputo che appunto Don Franco Lanzolla, il parroco della cattedrale di Bari, ha chiesto un aiuto per questa mensa caritas della cattedrale che lui sta faticosamente portando avanti e ho pensato appunto di devolvere tutto il ricavato di questa serata del 16 marzo alla Vallisa a favore di questa mensa caritas. Naturalmente la Vallisa ha pochi posti, sono 150 posti, noi col passaparola già ne abbiamo dati quasi un centinaio, quindi restano gli ultimi 50 posti, però diciamo che soprattutto volevamo attirare l'attenzione su questa problematica, anche perché c'è un progetto di costruire una nuova mensa su un suolo già dedicato. Sì, su un suolo già dedicato che è quello dell'ex convento di Santa Chiara al Porto. Ci siamo ritrovate inconsapevolmente su un argomento che anche noi abbiamo sposato e in qualche modo rilanciato più volte ai nostri telespettatori, quindi siamo ancora più felici di raccontarlo insieme a lei. E a lei che in qualche modo in questa sua carriera attraverso spettacoli importanti, partecipazioni importanti, ha sempre avuto un occhio particolare diciamo per il racconto dell'universo femminile, sempre molto circostanziato. Sì, è vero, ci sono stati spettacoli come La Traviata allo specchio dove appunto nel 2003 al Petruzzelli si analizzava il rapporto tra l'eroina di Dumas, della dama delle Camelie, la trasformazione poi nella Traviata alla donna realmente esistita e questo è stato uno degli spettacoli diciamo più importanti dedicati alle donne, ma ce ne sono stati tanti altri, anche il successivo diciamo dell'Otello metteva in evidenza proprio questa figura di Desdemona e successivamente c'è stato anche uno spettacolo dedicato a Mathilde Vesendon che è stata una diciamo degli amori di Wagner, una poetessa e quindi siamo scesi anche diciamo verso figure magari non tanto conosciute però molto molto affascinanti. Beh insomma noi donne per tanti secoli non abbiamo avuto la possibilità di parlare, no? Ricordo anche la poetessa Emily Dickinson che spesso io cito nei miei spettacoli che era chiusa nella sua stanza perché non poteva comunicare e diciamo che oggi che finalmente noi donne possiamo esprimerci in maniera più libera mi piace pensare che noi musiciste possiamo ricordare anche appunto quelle donne che magari all'epoca non hanno avuto tanta possibilità e allo stesso tempo come ascoltavo prima quello che diceva con l'ospite precedente è vero cioè c'è una sensibilità molto femminile che è anche una dolcezza diciamo che è un po' più attenta magari a quello che succede la capacità di chiudere diverse situazioni in un ambito che poi appartiene alle donne e credo che proprio quel discorso culturale di cui accennavo ad inizio trasmissione che vada proprio nel senso della sua ricerca e della sollecitazione alla conoscenza estesa a tutti donne, uomini, grandi bambini perché fa sempre bene e allora grazie per essere stata con noi io ricordo lo spettacolo il 16 marzo all'auditorium La Vallise allora ancora pochi posti disponibili dolci suoni di donne quando vedete questa locandina saprete di che cosa si parla e soprattutto saprete che partecipando si trascorrerà una serata meravigliosa un concerto bellissimo a cui partecipare soprattutto un'opera buona e caritatevole da fare grazie grazie a voi Carmelo a te l'ultima parola guarda un po' parliamo di donne e diamo l'ultima parola a te allora abbiamo ampiamente trattato l'argomento con quello appunto che si riferisce alla donna per quanto riguarda altri interventi ce n'è uno io ho lanciato altre messaggi provocazione messaggi trattino provocazione ma li hai firmati? li hai firmati? hai detto che eri tu? sì vabbè ma tanto mi vedo eh certo ma così rimane agli altri alcuni lo dicono allora sovraffollamento delle carceri come si risolve? questa all'inizio non te la volevo girare perché mi è sembrata un po' brutale però ti leggo l'ultima parte forse potrebbe far strappare un sorriso se computassimo due giorni di fatica seria con tre giorni di carcere una proposta fatta dal nostro da un nostro telespettatore si chiama Vito ecco non aggiungo altro perché l'altra parte del messaggio sinceramente non la condividiamo almeno per quanto riguarda ecco non è molto politicamente corretto però lasciamo stare quello di Banca Italia lo abbiamo visto quello a proposito ah tu avevi lanciato questo concetto del vivi e lasciavivere il vivi e lasciavivere e poi rincorsa del problema è giusto ebbene ci sono diversi mi piace tu sai che in Facebook c'è questo tipo di considerazione però nessuno si esprime chiaramente sull'argomento allora vuol dire che abbiamo un po' tutti la coscienza sporca è così radicato questo concetto del vivi e lasciavivere e poi rincorrere affannosamente il problema che evidentemente nessuno se la sente di contestarlo e di criticarlo di farlo almeno in modo aperto e allora diciamo che noi invece ci assumiamo la responsabilità di non tollerare più questo concetto e di fare in modo che le cose sul nascere vanno affrontate sull'intervento poi scusami se ti interrompo sull'intervento dell'UE per quanto riguarda la vicenda Marot diversi diverse condivisioni poi c'è Gianni che dice lui è addormito finora alla faccia dei trattati internazionali però insomma queste cose sappiamo che anche si mettono in moto con una certa lentezza sono un po' elefantiache sei un po' diplomatico speriamo che vada tutto bene per questi ragazzi e allora certamente sì e allora così si conclude il nostro appuntamento di oggi ci rivediamo come sempre domani alle 13.25 e intanto subito dopo la pubblicità non perdete pronto dottore con Cristiana Cippone oggi si parla di un argomento io veramente dovrei fare telefonate a go go all'800 098 729 Cefale con un esperto autorevolissimo il professor Andreula che insomma aspetta le vostre domande e chissà che anche io non riesca a fargliene una mi raccomando telefonate noi ci vediamo domani e grazie Carmelo tu domani non sarai con noi perché mi duele moltissimo ci dispiace molto va bene ci accontenteremo un buon pomeriggio arrivederci Musica 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 Grazie a tutti.